In Italia per realizzare un appalto si impiega più di un terzo del tempo che in media serve a livello europeo, 815 giorni contro 605 della media UE. A rallentare i lavori sono i numerosi passaggi burocratici che incidono per il 54,3% sui tempi complessivi per completare le opere. Secondo Confartigianato, il 54,3% del tempo necessario per completare l'opera pubblica in Italia e assorbito dai cosiddetti tempi di attraversamento, calcolati tra la fine di una fase e l'avvio della successiva, che non sono utilizzati per realizzare l'opera ma vengono impegnati dai procedimenti burocratici e autorizzativi. La lentezza della nostra burocrazia pesa direttamente anche sulle tasche delle imprese che realizzano l'appalto. In Italia infatti devono aspettare in media 90 giorni per essere pagate dall'ente pubblico appaltante, vale a dire il doppio rispetto ai 46 giorni della media UE e tre volte in più del limite massimo di 30 giorni imposto dalla legge sui tempi di pagamento. La durata della realizzazione delle opere pubbliche è soltanto uno degli ambiti in cui la burocrazia rallenta e blocca la competitività italiana. Il nostro paese è al ventitresimo posto tra i 27 paesi dell'Unione Europea per l'eccesso di complicazioni amministrative e al cinquantottesimo tra 190 paesi nel mondo per la facilità di fare impresa. E questa la sintesi del report di Confartigianato sui lunghi tempi di realizzazione degli appalti in Italia che sta attualmente penalizzando le 80.422 imprese attive in Piemonte del sistema che impiegano oltre 170.000 addetti. La burocrazia è da sempre il male da estirpare, commenta Giorgio Felice, presidente di Confartigianato Piemonte. Una delle grandi sfide da vincere con il Recovery Plan consiste proprio nel semplificare e snellire la mole di costosi e inutili addempimenti che pesano sulle aziende e sul paese e nel rendere la macchina amministrativa capace di scaricare il potenziale del piano con un'efficace programmazione e gestione delle sue misure.